Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi andremo a vedere cose da fare varie ed eventuali all'interno di Elden Ring. Anche questo video come sempre è offerto dal nostro sponsor Aoea, un sito dove potrete acquistare armi, armature, materiali di gioco, rune e chi più ne ha più ne metta per Elden Ring e se utilizzerete il coupon Top Games riceverete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. A questo punto non vi resta che iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Ragazzi ci hanno provato, volevano nerfare le nostre zone di farm preferite e noi invece riusciamo comunque a farlo, basta fare il giro. Quindi From desisti e lasciaci giocare come ci piace. Dobbiamo andare al mausoleo della dinastia di Mogwin, ragazzi, quindi all'ingresso della zona di Mogwin in generale, quindi del sottosuolo. Potrete raggiungerla anche utilizzando il medaglione, quello che vi porta qua, perché vi porta esattamente qui. Come vedete dobbiamo correre verso queste radici, saltare sul muro, saltare nuovamente e poi saltare nel nulla, nel nulla cosmico. Che cosa succede quando saltiamo nel nulla cosmico? Il soffitto della zona si abbassa. È un errore di script, credo. Il soffitto si abbassa man mano che noi andiamo giù, perché noi in verità non stiamo cadendo, noi siamo su un piano che si muove. È il limite basso del mondo che va ad abbassare il soffitto, sostanzialmente. Se riusciamo a fare una spiegazione un po' più dettagliata è come se fossi in un ascensore. Io sono appoggiato al pavimento dell'ascensore e il tetto si abbassa con me. Una volta che raggiunge un certo livello, uccide automaticamente tutti gli nemici di questa zona. Quindi raggiungeremo un cap che è di circa 130.000 anime e ci verranno accreditate una volta che avremmo ricevuto le prime. A questo punto, come facevamo esattamente prima, torniamo alla grazia precedente oppure riutilizziamo il medaglione e ripartiamo dalla scalinata e continuiamo a raffica a fare questa zona. Quindi ci hanno provato, non ci sono riusciti. Fatemi saspare se conoscevate già questo metodo nuovo o se è una novità un po' per tutti come lo è stato per me trovarlo. Ovviamente c'è anche un metodo per salire direttamente dalla grazia vecchia per capirci quella dove si farma sul muro di sangue, ma devo ancora capire come perché non ci riesco. Se qualcuno ci riesce ragazzi fatemi sapere come caspita devo saltarci. Noi ci rivediamo sempre qua in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre nuove uscite. Ciao a tutti!